Ciao a tutti, sono Enrico Barbieri, sono un 2000, un attaccante, mi sono iscritto a Giovani Promesse perché ho visto che a molte persone hanno avuto l'opportunità di farsi vedere, da molti osservatori, procuratori e che hanno magari avuto un'occasione con squadre professionistiche importanti. Il mio giocatore preferito è Messi, tifo Inter, anche se non va molto bene, e vengo da Piacenza. Grazie a tutti.